Bene non di certo, cosa ne posso pensare? Male, tutta questa gente, poveracce in fondo, sono venute qua per andare a finire dove? In queste condizioni? Non lo so come vivono, certamente vivono, certamente vivono, come fanno, come non fanno, chi agisce, chi per loro, non ne ho l'idea. In fondo sono dei poveracci, certo per venire a finire qua, in queste condizioni sono dei poveracci, quindi bisogna avere non solo il lato estetico, il lato quello che magari poveracci sono, ma che si può fare? Ora, 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 qua, uno messi è qua, mio non è assai qua, prima mio è tamimènesse, lavorare di chanissi, ristorante, avessi, ora lavorare non c'è più, ora mio dormire qua.